Fausto Amodei ha 85 anni e ci accoglie a Arzillo come un giovanotto nella sua casa Arorà, in Alta Valpendice. Ci concede un'intervista in cui ci racconta la sua vita, la sua passione politica, ma soprattutto la sua lunga storia musicale. Amodei, lei ha fondato i Cantacronache insieme a, tra gli altri, Italo Calvino. Come siete nati? È un processo, non è stata una scelta fatta così d'amblè. Nasce dal fatto che i personaggi di Cantacronache, cioè Sergio Liberovici e Michele Staniero, insieme a Emilio Iona, hanno pensato di darsi da fare per creare una canzone che fosse non evasiva. Infatti il motto di Cantacronache era evadere dall'evasione. Quindi è una canzone che non fosse tipo gastronomico come quelle di Sanremo. Per conto loro hanno cominciato a fare alcuni piccoli esperimenti. Poi attorno a questi piccoli esperimenti si è cominciato a raccogliere un pochettino di personaggi e addirittura appunto Italo Calvino, per esempio, che ha composto i testi di alcune delle prime canzoni di Cantacronache. Io conoscevo bene Michele Staniero, poi attraverso lui ho conosciuto anche Sergio Liberovici e a un certo punto mi hanno cooptato come chitarrista, in quanto per andare in trasferta l'unico musicista della banda di allora era Liberovici che suonava il pianoforte, in trasferta il pianoforte era una cosa un po' complicata. Quindi gli serveva un chitarrista che cantasse perché sapevano che cantava ma fino a quel momento lì cantavo canzoni popolari, ero molto legato al folklore piemontese o poi al folklore internazionale. Andavo in giro da studente in autostop e quindi cantavo in inglese, in francese, in spagnolo, in finlandese. Il fatto di mettermi io stesso a comporre musica è venuto un po' più avanti. Cioè a un certo punto, dopo aver accompagnato gli altri autori di Cantacronache, a un certo punto mi hanno proposto di musicare alcuni dei testi loro. Infatti le prime canzoni che ho musicato sono state da Zulfara, che era sul testo di Michele Staniero, poi dopo direi Partigiani Fratelli Maggiori, che era un testo che aveva scritto Michele Staniero, per una riunione di partigiani qui sul Montoso. Allora noi, che ovviamente per questioni anagrafiche non eravamo stati partigiani, volevamo fare testimonianza a questi partigiani fratelli maggiori. Quindi Michele aveva scritto questo testo e aveva scritto la musica. Poi a un certo punto mi è venuta voglia di provare anche io a fare i testi. Perché canto politico? Per la verità, l'iniziativa originaria di Cantacronache era quella di creare una canzone che avesse una qualità e una dignità culturale, sia dal punto di vista del testo che dal punto di vista musicale. Il fatto politico, secondo me, era già in quello. Era già una posizione di sinistra, quella di volere nobilitare la canzone. Prendo come punto di riferimento esempi stranieri come il repertorio di chansonni francesi o il repertorio delle canzoni di cabaret tedesco da Bertolt Brecht, eccetera, eccetera. Si è avuto poi un impulso particolare, partendo dal fatto che si raccontavano fatti di cronaca. Sono stati presentati queste canzoni qua negli ambienti dove ci accoglievano, cioè che erano poi praticamente i festival della stampa democratica e i circoli operai, delle cooperative. E lì si è avuto una specie di baratto, cioè noi cantavamo gli zolfattari morti in Sicilia, cantavamo, c'era una canzone di Michele Staniero che parlava di un bambino morto la notte di Natale. E a un certo punto da parte di questo pubblico anziano che frequentava questi circoli ci si è stato detto ma guardate che noi avevamo un canzoniere di cronaca e citavano tutto quanto il canzoniere anarchico, socialista e comunista che parlava dal diritto Matteotti allo scandalo della Banca di Roma, agli acidi di Cappabava, eccetera, eccetera. Allora a questo punto ci siamo sentiti integrati in un'operazione che poteva essere allargarsi e estendersi. Per cui oltre a fare noi stessi canzoni che avessero un significato politico siamo stati tra i primi per la verità e l'atmosfera c'era già in giro perché anche a Milano si stava facendo qualcosa di genere, cioè la raccolta dei canti sociali italiani. I primi che hanno raccolto e registrato a Dio Lugano siamo stati noi di Cantacronache. L'abbiamo raccolto da un barbiere di Ivrea che era un vecchio anarchico e ce la cantava così in modo un pochettino incerto però l'abbiamo subito ritenuto un elemento importantissimo del canzoniere social italiano. Col passare del tempo si è allargato il campo degli argomenti su cui ci impegnavamo noi. Io personalmente mi è piaciuto molto giocare sulla satira, non in tutto quanto. Per esempio le canzoni in cui c'erano le parole d'ordine politiche serie e impegnative eccetera eccetera per esempio non le ho, salvo diciamo i morti di Reggio Emilia, le ho tratte da discorsi fatti da altri. Per esempio il proclama di Camillo Torres, cui diceva cose piuttosto importanti come la lotta armata in Sud America. Non avrei mai detto come mie personalmente queste parole qui però siccome lo ritenevo un discorso da divulgare avevo preso questo argomento qua. Oppure la lettera di Robert Bauman che era questo ex colonnello dei Marines americano che però era diventato vescovo e che aveva fatto questa lettera al presidente degli Stati Uniti in cui denunciava tutte quante le colpe degli Stati Uniti nelle operazioni di contrasto alle lotte di liberazione di Sud America o all'uso di armi indiscriminate nei riguardi delle popolazioni asiatiche, americane eccetera eccetera. Lei a Modei insieme ai Cantacronache avete ispirato il lavoro di molti cantautori che sono poi nati nell'Italia negli anni 50, 60, 70, De Andrè, Dalla, Guccini, Vecchioni, De Gregori. L'unico personaggio che ho conosciuto un po' bene è stato Guccini. De Andrè non l'ho mai conosciuto, c'era un rapporto tra un mucchio di persone. Diciamo che nel gruppo di Cantacronache aveva il proprio, che poi ho durato fino al 62, c'era io, Michele Straniero, c'era Mondaldini che cantava, c'era Pietro Buttarelli che era un attore che cantava, però poi come Cantacronache siamo sciolti e siamo passati, almeno io e Michele Straniero, al gruppo del Nuovo Canzonere Italiano, quello di Milano, quello che nasceva dalle iniziative di Roberto Leidi, di Gianni Bosio, torno alle edizioni avanti, poi Dischi del Sole eccetera eccetera, lì allora si è creato un gruppo, Giovanna Marini, Ivan Della Mea eccetera eccetera, quindi lì è stato un vulcano di iniziative, di discorsi, di amicizie, di scambi di opinioni, alcuni che eseguivano le canzoni dell'altro eccetera. Tra i suoi pezzi migliori e più famosi ci sono sicuramente le traduzioni in piemontese di George Brassens, che lo stesso ha definito le migliori insieme a quelle in milanese del cantante dei gufi Nanni Svampa. Per me è stato un personaggio importantissimo nel senso che non avessi conosciuto Brassens non mi sarei messo a fare il cantautore io, nel senso che da Brassens ho capito che con le canzoni si possono raccontare delle storie, a parte il fatto che nel canzoniere popolare la ballata epico-lirica non fa altro che raccontare delle storie, però in chiave moderna eccetera eccetera chi mi ha dato l'input è stato Brassens, sapevo a memoria le sue canzoni in originale eccetera eccetera. A un certo punto pensavo che valesse la pena farne delle traduzioni ritmiche che potessero essere diffuse a chi non era francofono. Dopo alcuni tentativi falliti di fare queste traduzioni ritmiche in italiano e ho avuto l'esempio di Nanni Svampa che le traduceva in milanese allora mi sono chiesto ma certo col dialetto è molto più facile perché la lingua italiana ha la maggioranza delle parole che sono piane, cioè hanno l'accento sulla penultima sillaba invece il francese ha un bucchio di parole tronche, il piemontese ha un bucchio di parole tronche e proviamo a fare le traduzioni ritmiche in piemontese. Come antecedente diciamo di approccio ai canzonieri piemontese c'era un personaggio dell'Ottocento che aveva già un suo spessore molto importante che era Angelo Brofferio che era stato membro del Parlamento subalpino, era avversario feroce di Cavour perché lui stava alla sinistra dei liberali, oltre a aver fatto Il Diavolo a 4 come interventi politici come libri autobiografici, come libri di intervento politico ha scritto una cinquantina di canzoni in piemontese e direi che buona parte delle canzoni aveva scritte in galera quando era prigioniero del governo Sabaudo. Si collega con Brassens nel senso che il piemontese di Brofferio mi è servito come base d'appoggio per usare bene il piemontese nel senso che in famiglia non parlavamo dialetto quando ero chiuso appeso un pochettino parlavo piemontese con gli amici eccetera eccetera ma era un piemontese non da scrivere. Di conseguenza è stato direi Brofferio soprattutto che mi ha incitato a parte di fatto ho comperato il Sant'Albino naturalmente per avere un dizionario piemontese ricco Amodei lei è stato anche parlamentare della Repubblica Italiana dal 1968 al 1972 ci può raccontare la sua esperienza politica? La mia prima esperienza politica era stata alla fine degli anni 50 con Unità Popolare cioè il movimento di Parri. Proprio in Unità Popolare c'era una scuola di partito minuscola ma che per me è stata importantissima perché mi ha fatto capire come le idee politiche nascessero dalla storia culturale e politica sociale del passato. C'era un ingegnere che ci faceva lezioni a noi giovani e direi che le prime basi me le ha proprio create Unità Popolare. Alla fine degli anni 50 ero passato al PSI e nel PSI mi ero subito legato alla corrente di sinistra e nel 64 avevo partecipato alla scissione del PSIUP e a questo punto nel PSIUP ho militato come semplice iscritto avevo alcune responsabilità all'interno della federazione. Il PSIUP aveva già partecipato alle precedenti elezioni però avendo due o tre rappresentanti e nel 68 a un certo punto hanno presentato una lista in cui il capolista era Libertini e poi dopo hanno avuto l'idea di metterli tutti in ordine alfabetico e io ero il secondo. Anzi io ero il secondo perché ci sarebbe stato un compagno molto più degno di me che era Gianni Alasia però era sindacalista e allora a quel tempo c'era l'incompatibilità tra l'attività sindacale e il fatto di candidarsi al Parlamento. Per cui ero il primo e poi dopo per la verità ero conosciuto perché avevo seguito con le mie canzoni più che con attività politica vera e propria per esempio l'occupazione della facoltà d'architettura di Torino, ero andato lì due o tre volte a cantare per animare l'occupazione. Diciamo insomma che l'intelligenza torinese mi aveva tenuto presente stupendo tutti quanti io per primo di essere nominato deputato. Uno perché si pensava che dalla circosizione di Torino venisse fuori solo uno cioè Libertini e invece in quelle elezioni lì abbiamo avuto un certo successo, mi sembra che avessimo raggiunto l'8% e da Torino ne sono venuti due e quindi niente ho fatto il deputato. Quattro anni e mezzo perché è stata la prima legislazione che è durata meno di cinque anni. Dunque io mi sono impegnato per la verità solo come architetto in Parlamento nel senso che sono entrato nella commissione di lavori pubblici, lì ho fatto la maggior parte del mio lavoro che aveva affrontato il problema del regime di proprietà dei suoli, per cui si era aperta lì e in una certa misura abbastanza sviluppato il discorso della separazione del diritto di proprietà dal diritto di edificazione. In questa legislatura qui era passato lo statuto del diritto dei lavoratori, era passato il divorzio, era passato la prima riforma fiscale per cui era stato istituito l'IRPEF, era passato l'istituzione delle regioni, quindi non era stata una legislatura da buttare via. Pausto Modei nonostante alcune pause di riflessione non ha mai smesso di scrivere. Quest'ultima canzone qui l'ho fatta, trascinata dall'indignazione per il fatto che Salvini riteneva le ONG che salvavano la gente i nemici da battere. Questo per me era assurdo, era, non so, pigliarsela appunto con la croce rossa. Per cui ho cercato di risolvere poi questo fastidio non parlando direttamente di quello, ma parlando di altri casi di bontà umana interpretati da Salvini come fatti invece assolutamente negativi. La canzone è nata come un discorso fatto direttamente da Salvini. La musica è una variazione dell'inno nazionalsocialista. Non so se sia dell'inno nazionalsocialista o dell'inno delle SS. La storia autentica del buon samaritano, ve la racconto se voi state bene attenti, c'era un viandante che tre o quattro malviventi aveva un malmenato in modo disumallono, non era armato e senza arma che pretesa, la fai col cazzo una legittima difesa. Grazie a tutti.